In Venezia, devo dire che questa è una testata della comunità, effettivamente è una testata che è una testata della comunità, in Venezia abbiamo lavorato con il film di Venezia e non possiamo riuscire a uscire, non possiamo riuscire a uscire, ma questa è una testata e vedo un attimo il flash di tre spiganti a voi, sono una studentessa, c'è una gente che ha fatto da spiegare, purtroppo è che sta molto bene, tra le persone e le persone, e purtroppo non posso farlo, la perdiamo, c'è un giudice, un giudice e poi non possiamo riuscire a uscire, ma è una testata della comunità, non è vero, allora ho due domande. Grazie. Grazie. Grazie.